questo è il mio collaboratore ah ecco presentiamo il suo collaboratore Camacino io non parlo italiano buonasera signor Camacino è schimese è delle schimia cosa sta facendo tirate l'olio leete, 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 leete si leva, si levi, si leva vediamo adesso zoomiamo, mettiamo fuoco ecco, vedete il lavoro da certosino da galvanino questa è una foresta è una foresta tropicale ma che signor? vediamo, più che un lavoro da certosino più che un lavoro da certosino direi un lavoro da galvanino guarda, sta bene via, finiamo le trasmissioni, sennò stasera non ci rimane più la batteria qui, eh arrivederci, arrivederci barbieri arrivederci arrivederci cavia mettete così betuso fammi con lo bu asse e se bado vediamo ho ticnici